Sono laureato a Pavia, all'università di Pavia, e poi mi sono spostato subito a Londra per fare un master in economics e a UCL, e sempre a UCL ho continuato iniziando il mio dottorato. Ora sono al quarto anno di dottorato e la mia ricerca è una ricerca teorica, quindi teoria dei giochi applicata a macroeconomia. Il titolo è Optimal Communication Strategy for Central Banks e lo trovo molto interessante perché in accademia quando si parla di comunicazione di banche centrali si parla soprattutto della precisione della comunicazione, cioè quanto le banche centrali riescono ad essere precise quando parlano. Il punto è che un altro concetto chiave è quanti in realtà nell'economia capiscono che cosa le banche centrali dicono. Quindi io unisco queste due dimensioni e cerco di trovare qual è l'ottima combinazione di queste due dimensioni in termini di massimizzare il benessere sociale.